Nicissima, come stai vivendo questa attesa per la finale di Scorsi? Sono estremamente emozionato, stanno arrivando i primi dati delle sezioni, ne abbiamo 6 su 23 e il risultato è incredibile, non ci aspettavamo un successo del genere siamo in molte sezioni, il primo partito di Cesenatico, o meglio, la prima forza politica che si è messa in gioco aspettiamo con trepidazione, ma sembra quasi certo il valottaggio così di a questo punto ce la giochiamo nelle prossime due settimane Ti faccio una domanda sulla fluenza perché ho visto che c'è stato un po' di calo secondo te che cosa può essere dovuto? Il calo rispetto a 5 anni fa, ti ne ho conto che 5 anni fa si votava due giorni quindi si votava sia domenica che lunedì è vero, rispetto a 5 anni fa un calo, ma ricordiamoci che nelle ultime anni c'è stato un calo alla partecipazione al voto incredibile per cui ho dimostrato ancora che per amministrative la gente invece ha voglia di partecipare e di dare il suo contributo, quindi la vedo come un segnale estremamente positivo rispetto alle elezioni degli anni che sono appena passati